Il serbo si prende il tiro, il giro è corto, primo ferro, parte la transizione di Venezia con Rosselli, Zoroski, il blocco di Marconato anche lui sul parquet ora, Zoroski la penetrazione, l'errore poi in qualche maniera riesce a andare a sentire. Grandissima esperienza di Marconato che taglia, oltre al suo difensore taglia fuori anche l'uomo di Zoroski, gli permette un canestro facilissimo da solo, come Marconato che sa posizionarsi bene in difesa, questo forse è il quintetto che per il momento è più offensivo di quelli che ha fatto Mazzon. E intanto ha segno il secondo tiro libero, ritorni, giuratore serbo in lunetta per l'umana, segna il primo Zoroski, i menti di Bulleri al compagno, probabilmente forse un'azione di pressing dopo il tiro libero segnato. Eccola qua, di solito dopo il tiro libero, tutti i tabelloni, chiama lo schema Bulleri, chiede il movimento dei compagni, chiede a Rosselli di abbassarsi, poi Zoroski dall'altra parte in estensione il canestro di Zoroski. Ecco qua un canestro difficile però davvero attaccante, ha visto il buco, si è buttato dentro.